Amici sportivi, amanti del grande wrestling, benvenuti a un nuovo appuntamento con le telecrone che le pandita. Quest'oggi vi caccio un match di una realità incredibile e di una bellezza incredibile perché qui siamo nella WCW, siamo nel programma Pro, che è uno dei programmi secondari della Federazione di Atlanta puntata del 15 giugno 1996 e qui fa la sua presenza una leggenda del wrestling mondiale direttamente dal Giappone arriva Jushi Thunder Liger, perché ho scelto questo match? Perché di tutto per viaggiare un commento sotto un precedente video con Jushi Thunder Liger coinvolto ma soprattutto perché l'avversario del giapponese è niente poco di meno che Eddie Guerrero eccolo qui Eddie Guerrero con questo baffetto tipico degli anni 90 la prima versione di Eddie Guerrero che come dire era ancora, aveva questa attitudine da bravo ragazzo, da bravo uomo e quest'oggi qui all'MGM, anzi al Disney Studios di Orlando in Florida dove si svolgerono le distrazioni di Pro si svolge questo match tra Eddie Guerrero e Jushi Thunder Liger una vera e propria perla, una perla rara anche perché secondo me un match del genere poteva essere un menemente di Nitro assolutamente ma stranamente visto che nella WCW i lottatori che erano a top avevano un fisico nettamente diverso da quello che hanno i due lottatori presenti in questo match ma in un'altra federazione, un match tra Eddie Guerrero e Jushi Thunder Liger sicuramente non sarebbe stato rilegato in uno show secondario come WCW Pro però qui comunque è avvenuto e noi ce lo godiamo in tutta la sua bellezza qui side headlock da parte del messicano su Jushi Thunder Liger che si libera shoulder block da parte di Eddie che adesso va attenzione qui Eddie evita la mossa da parte di Jushi Thunder Liger poi va a vuoto Lee Frog uh calcio de rovesciato da parte di Jushi Thunder Liger su Eddie Guerrero questo è stato il allora allora perché ho fatto una sorta di ricerca su Cage Match che è una manna dal cielo per chi vuole fare ricerche del genere ho cercato un po' di match di Jushi Thunder Liger di show secondario della WCW e mi è uscito questo incontro e ho detto perché non commentarlo ed eccoci qua questo è uno dei 3-4 match che Jushi Thunder Liger ha sostenuto nel programma pro della WCW programma come dire di secondo se non terziare importanza ed è veramente un peccato che due lottatori del genere sono stati delegati in questo programma e qui attenzione Superplex da parte di Jushi Thunder Liger su Eddie Guerrero brutta botta per entrambi gli atleti e qui Jushi Thunder Liger va per lo schieramento uno, due, no solo conto di due da parte dell'abitro Randy Anderson il match continua con Jushi Liger che si dispera perché sentiva vicina la vittoria in questo incontro vittoria che ovviamente non è arrivata e qui Jushi Liger va con una serie di chop da karate su Eddie Guerrero lo porta all'angolo e va adesso con un'altra chop però questa è la chop di stampo pressingliano attenzione Arisbip rovesciato e qui close line da parte di Eddie che si gasa perché sente l'appoggio del pubblico dei Disney Studios di Orlando e qui Eddie va dritto per dritto serie di pugni Arisbip rovesciato attenzione tilt wheel backbreaker da parte di Jushi Thunder Liger che subito spezza l'azione di Eddie e poi e aia chiama alla fine del match che potrebbe arrivare in questo momento alzai di attenzione e qui arriva il Liger bomb uno due no solo conto di due con Jushi Thunder Liger che si la metta con l'albi per dire oh ref devi contare tre sai contare fino a tre e qui Jushi Thunder Liger chiama un'altra posta all'angolo appoggia Eddie Guerrero sulla terza corda attenzione tentativo di superplex sempre il secondo ma Eddie Guerrero lo spinge via e poi esegue la frog splash per il conto di tre vincente vittoria di Eddie Guerrero qui su WCW Pro su Jushi Thunder Liger e su queste immagini io vi ringrazio per aver visto questo breve video delle telecrombiche del pandita vi saluto e vi do appuntamento alla prossima ciao